Nella sala giunta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana è stata presentata l'edizione 2023 di Selvaggia, la festa delle erbe spontanee dei fiori delle gemme, che si terrà a Castelnuovo sabato 25, domenica 26 marzo. Alla presentazione, tra gli altri, l'ideatore della manifestazione, Fabrizio Diolaiuti. Sarà stupenda, per esempio la Selvaggia dell'anno sarà l'alloro, Nobilis Laurus, tanto cara al Pascoli, ma poi avremo 60 espositori, stand gastronomici dove si potrà assaggiare le mitiche crisciolette di cascio, le zuppe con gli erbi, la porchetta con gli erbi, tutti i ristoranti faranno un menù a base di erbi e poi ci saranno grandi talk e cookie show, escursioni guidate per tutti i gusti, sia con Marco Pardini, con Ivo Poli, escursioni anche di 8-10 km, il giorno i talk show con Tiziano Lera e poi la grande novità, il bosco in miniatura, con Dario Boldrini, inviato di Geo, che ci racconterà il bosco. Per due giorni Castelnuovo e dintorni si trasformeranno nella capitale delle piante e degli erbi spontanei. Selvaggia, come detto da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo e presidente dell'Unione Comuni della Garfagnana, che organizzano la manifestazione, è un vero e proprio grido per il ritorno all'essenzialità. Selvaggia è questa, è una bellissima manifestazione perché appunto è un grido di questo territorio, di questa terra che mette al centro le sue risorse essenziali, ma anche una cultura dell'essenzialità legata alle nostre tradizioni, ai nostri nonni, a chi ci ha insegnato che non va sprecato niente, a partire dalle cose che crescono nelle nostre selve e nei nostri prati.